Noel, una fette, Noel, un mot che, noi vogliamo croire, oggi ancora vuol dire qualcosa. Per la vigilia di Nadale, prima di tutto si pensa a Branzo. Ma la roba principale è il Gabretto. Il Gabretto prima, la secca, proviamo il vino, il vino, il vino, il vino, il vino, il vino e il vino della stagione. Questo è il nostro paese. Non sono i mondià, omo si ritrova in diezza, si brega e si ganta. Mentre che fuori, il voglio un'adolesco, Luginio Ledia, è scala il paese. Messa Ada, si volta in casa a stare assente. Se a Maria Francesca sarebbe stata una zia carnale di un mio papone. Ma, come ti dice, il più largo, il più corso, un figlio, ciò che tu mi vieni, segna quanto tu mi danni. A Tampavedia e storie di l'anziani, certi amparano a segnalutio. E perché, in Bastia, gli dando cio lì, andò a cercare Mimetta. Mimetta, la lettiera di Marchio Poisson di Bastia, conosce bene queste priere che permettono di congiurare il mauvesoio. Che alla Giambilla, o in paese, in Corsica come in altro, le tradizioni mudano. Perchè? Che un giù pare, che lui unga, papà noè? Intanto, l'ustinto verma e i sogni vissi di insieme c'è più che mai.